Bambini, oggi spiegheremo i nomi comuni e i nomi propri. Ogni cosa ha un nome. Mela, bambino, linguino, libro, computer e sole. Il nome può essere comune e proprio, comune di persona, di animale, di cosa, proprio di persona, di animale e di cosa. Sono nomi comuni di persona, mamma, figlio, papà, maestra e bambina. Sono nomi comuni di animale, ape, gufo, elefante, squalo, pecora. Sono nomi comuni di cosa, palla, gomitoli, aquilone, libro, colore. I nomi propri indicano in modo preciso persone, animali e cose e si scrivono sempre con la lettera maiuscola. Ciao, mi chiamo Elisa. Sono nomi propri di persona, Elisa, Roberto, Luca. Sono nomi propri di animale, Bambini, Leo, Felix. Sono nomi propri di cosa, Roma, Italia, Colosseo. Facciamo un altro esempio. Il nome comune è cane, nome proprio, Bobby. Nome comune, maestra, nome proprio, Elisa. Nome comune, città, nome proprio, legge. Ciao bambini, alla prossima!